Le elezioni regionali sono alle porte e per la prima volta si svolgeranno in condizioni eccezionali. Causa pandemia infatti cambia il modo di andare a votare, come cambiano anche le modalità di gestione dei vari seggi. Nonostante il coronavirus però, le autorità assicurano che la salute dei cittadini e la sicurezza saranno la priorità anche alle urne. L'ufficio elettorale nei giorni scorsi infatti ha tenuto un incontro con tutti i presidenti di seggio, che sono perfettamente istruiti sugli stretti protocolli anti-covid da seguire. Voglio innanzitutto tranquillizzare tutti i cittadini, gli elettori e le elettrici che nonostante le ristrettezze della situazione pandemica e i protocolli anti-covid sarà possibile andare a votare in tutta tranquillità. Quindi ognuno nel proprio seggio può andare a votare semplicemente portando la mascherina, un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Sono settimane che l'ufficio elettorale del Comune di Fano insieme alla Prefettura, i militari e anche con il coinvolgimento quest'anno della protezione civile sta lavorando per garantire il diritto di voto in tutta sicurezza e questo è sicuramente garantito. Avremo la protezione civile insieme ai militari direttamente nei plessi che aiuterà a impedire il formarsi dell'assembramento per cui tutti i cittadini e cittadine possono tranquillamente recarsi al voto senza nessuna paura. Anche per coloro che sono in quarantena, in quarantena fiduciaria o in isolamento ci sarà la possibilità di votare anche grazie all'istituzione dei seggi speciali Covid. Dovranno queste persone fare una specifica richiesta attraverso una modulistica che potete trovare anche sul sito del Comune di Fano e inviarla poi all'ufficio elettorale. Trovate tutto all'interno appunto del sito del Comune di Fano. Quindi sarà garantito il voto anche a questi soggetti. Sono stati riaperti i termini per cui inizialmente le persone in quarantena potevano fare richiesta entro il 15 ma adesso possono, appunto dopo un'attività di concerto anche con la Prefettura con la quale ci siamo confrontati ieri in un comitato di ordine e sicurezza pubblico e con la quale siamo in costante contatto, sono stati riaperti i termini e quindi è possibile fino al giorno del voto fare questa richiesta. Sono dei seggi che esistono appunto da quest'anno, sono gestiti in modo provinciale dall'ospedale di Pesaro dove ci sono appunto dei presidenti e dei scrutatori istruiti e formati per andare direttamente nei luoghi dove si trovano le persone sottoposte in quarantena per raccogliere appunto la loro indicazione elettorale.